ragazzi è appena finita la partita Ascoli Lecce 0 a 2 bravissimi ragazzi oggi un bellissimo Lecce devo dire la verità veramente dopo il pareggio in casa col Pordenone avevo un po' dei dubbi però veramente oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e nonostante i primi minuti di difficoltà troviamo poi il gol con Mancoso nel secondo tempo e con Lian Manderson ancora una volta grande partita di sostanza e di qualità buoni anche i ricambi a Japong ha giocato bene però devo dire che oltre alla conclusione di Kiriko Lascoli comunque non ha fatto tutta sta grande cosa lo dimostra il possesso palla che abbiamo fatto e le conclusioni che abbiamo avuto 2 a 0 che ci sta anche un po' stretto ecco c'è da dire anche una cosa che sull'1 a 0 Gabel ha fatto una paratona sull'attaccante greco dell'Ascoli non mi ricordo come si chiama che ha tolto praticamente con la mano il pallone dal piede del giocatore e quindi Gabriel ancora una volta si è dimostrato determinante per salvare la partita del Lecce Listovski anche buona gara era importantissimo fare bene fare molto bene oggi sul campo dell'Ascoli anche perché la prossima sarà una partita tosta fuori casa col Brescia quindi veramente vittoria importantissima 0 gol sub in due partite quindi ottimo anche in difesa l'unica cosa l'unico appunto è che forse ci teniamo un po' tanto la palla dietro quindi è meglio smistarla quando magari non ci sono compagni liberi il resto non c'è stata storia veramente ci vediamo nel prossimo video ragazzi e vi auguro una buona giornata e un buon weekend a tutti